buongiorno capitano oggi ha un cliente molto speciale mi deve dare il miglior pescato che ha maestro oggi pesca grossa quasi qualche meraviglia che spettacolo ma che sorpresa mi fai mangiare benissimo ti faccio strada risotto ai rifiuti di mare aria di mare sporco l'inquinamento del mare non è uno scherzo partecipa blue crowd funding aiutaci a pulire il mare il mare potete mandarci del denaro per pulire il mare mare circolare punto it campagna cofinanziata nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea interreg mediterraneo 2014 2020